Buongiorno, sono Paolo Azzori, lavoro al Parlamento Europeo presso i deputati non iscritti e seguo in particolar modo la Commissione Affari Esteri e la Sottocommissione per i diritti umani. Le relazioni che il Parlamento Europeo e più in generale le Unioni Europee intrattengono con la Russia si possono schematicamente riassumere in questi termini. Il Parlamento Europeo dispone di una delegazione per relazioni con la Duma, le quali si incontrano due volte l'anno, una volta in sede di Unione Europea e una volta in sede di Federazione Russa. Sono degli scambi interparlamentari di dialogo rispetto al clima che si crea tra le due entità l'Unione Europea e la Federazione Russa e di discussione su dossier che possono riguardare sia l'Unione Europea che la Federazione Russa. D'altro canto, oltre alla delegazione per le relazioni con la Federazione Russa, i dibattiti relativi alla situazione in Russia sono molto frequenti sia in sede di Commissione Affari Esteri sia in sede di Sottocommissione Diritti dell'Uomo. Si tratti di risoluzioni sui casi di violazione dei diritti umani, si tratti di recenti, negli ultimi due anni diciamo, questioni elettorali legate alle elezioni legislative e poi presidenziali, si tratti in particolar modo delle recenti leggi che sono state approvate dal governo delle autorità russe per quanto riguarda il regime delle ONG, per quanto riguarda la nuova legge sul tradimento e la sicurezza dello Stato, per quanto riguarda la legge sull'estremismo, o per quanto riguarda, come sapete bene, la legge sulla propaganda, cosiddetta propaganda omosessuale, sono ovviamente temi che ricorrono puntualmente e frequentemente nell'ambito delle discussioni di varioni nel Parlamento Europeo. Inoltre il Parlamento Europeo ha nel 2009 decretato il premio Sakharov per la libertà di pensiero all'associazione Memorial e nel 2007 ha deciso di intitolare la propria sala stampa a Bruxelles in memoria di Anna Politowskaya. Le relazioni poi con i partner russi sono anche gestite dal Presidente del Parlamento Europeo nell'ambito di vari incontri che si possono effettuare. Più recentemente l'attenzione del Parlamento Europeo si è centrata, come dicevo, sulle questioni elettorali, le numerose irregolarità che si sono manifestate sia nella preparazione nel corso delle elezioni legislative di dicembre 2011 e poi confermate nelle elezioni presidenziali della primavera, inverno primavera 2012, hanno ovviamente assorbito l'attenzione e la preoccupazione sia dell'Unione Europea che di altri organismi internazionali e hanno ottenuto il biasimo pressoché unanime delle organizzazioni che di osservazioni elettorali si sono sempre occupate. Le due posizioni più recenti, più comprensive, più complete che il Parlamento Europeo ha adottato in materia di relazioni con la Russia sono da un lato la raccomandazione dell'On. Sovoda per definire un quadro all'interno del quale compiere i negoziati in corso con la Russia, un quadro che deve avere come riferimento costante e preponderante lo stato di diritto e il rafforzamento delle libertà fondamentali e il benessere dei cittadini russi e dei cittadini della Unione Europea. Dall'altro, come caso molto concreto che il Parlamento Europeo ha cercato di sottoporre ai suoi interlocutori interni, quindi alle istituzioni esecutive, servizio esterno e commissione, la proposta di stabilire una lista nera, quindi una lista di ufficiali russi ai quali deve essere impedito l'accesso al territorio dell'Unione Europea e devono esserne congelati i beni eventualmente presenti sul territorio dell'Unione Europea e si tratta di quegli ufficiali che erano implicati nella morte di Magnitsky. Dal punto di vista invece dell'esecutivo europeo e quindi del Consiglio europeo, della commissione e del servizio esterno per le relazioni estere, i due principali quadri di relazioni con la Federazione Russa sono i due negoziati in corso per il rinnovo da una parte dell'accordo di cooperazione partenariato con la Russia e dall'altra parte il negoziato sul cosiddetto accordo di modernizzazione. Rispetto a questo, gli ostacoli sono numerosi, diciamo che dal momento in cui sono stati avviati i negoziati per l'accordo di cooperazione nel 2008, per l'accordo di modernizzazione nel 2010, costantemente, frequentemente e regolarmente i negoziatori si sono imbattuti su delle difficoltà consistenti, che si tratti ovviamente del degrado dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali a cui assistiamo nella Federazione Russa da oltre un decennio, ma anche ostacoli dovuti a delle iniziative molto più settoriali, quali per esempio la creazione, il progetto di un'unione euro-asiatica che il Cremlino, in particolar modo il presidente Putin, ha lanciato e ha iniziato a concretizzare stringendo in questo senso degli accordi con da una parte la Bielorussia e dall'altra parte il Kazakhstan. Ovviamente questo tipo di iniziative collide con i negoziati sia per la modernizzazione che per la cooperazione, ma soprattutto provoca dei grossi attriti all'interno di un altro contesto istituzionale, non europeo ma internazionale, quindi il contesto del WTO. Essendo il progetto di unione euro-asiatica anche un progetto in prospettiva politico, è ovvio che si pone su un piano di rivalità con alcuni strumenti e politiche dell'Unione Europea, in particolar modo la politica per il vicinato e la politica dell'allargamento. Per quanto riguarda gli strumenti di cui l'Unione Europea dispone per influenzare positivamente le relazioni con la Federazione Russa e per incoraggiare il consolidamento, possiamo pure dire ormai la rinascita di uno stato di diritto e dei diritti fondamentali delle libertà all'interno della Federazione Russa, non si tratta di strumenti a livello dell'Unione Europea, bensì di strumenti vigenti in altri contesti, in particolar modo il Consiglio d'Europa, sia la Federazione Russa che tutti i membri dell'Unione Europea sono allo stesso tempo membri del Consiglio d'Europa, gli strumenti previsti nel contesto del WTO e gli strumenti ratificati dalla Russia e dai paesi europei dell'Unione Europea di rilevanza onusiana. Questi sono gli strumenti di cui l'Unione Europea deve e può avvalersi per incoraggiare un sviluppo positivo in Russia. Le prese di posizione ricorrenti e ormai molto frequenti che le varie istanze dell'Unione Europea hanno preso e prendono rispetto a casi gravissimi che si sono verificati nel corso degli ultimi anni hanno ovviamente un impatto molto forte e sono fondamentali per incoraggiare la società civile russa che può capire che dalla parte dell'Unione Europea c'è un'attenzione costante. Dichiarazioni, condanne si sono avute senza avere l'intenzione di essere esaustivi, ma solo per citare alcuni casi, rispetto al caso Khodorkovski, rispetto all'assassinio di Anna Politkoskaya, l'assassinio dell'avvocato Markelov, di un'altra giornalista Anastasia Vorburova, di una militante di Memorial Natalia Estemirova, di vari altri esponenti della società civile, membri di associazioni, rispetto a questi casi, come pure il caso Magnitsky, il caso recente della condanna per blasfemia del gruppo musicale Pussy Riot, il caso ancora più recente delle persecuzioni e delle condanne che subisce Novalny a seguito delle elezioni e soprattutto delle manifestazioni di piazza che i cittadini russi hanno organizzato dal 2011 fino al 2012 e 2013, queste violazioni hanno sempre trovato una condanna da parte delle istanze europee e questo tipo di atteggiamento di condanna è innanzitutto fondamentale perché corrisponde a un impegno e alla difesa che l'Unione Europea attribuisce come fondamentale ai principi della democrazia. D'altro canto, come dicevo, sono fondamentali queste reazioni, questi atteggiamenti, queste condanne per incoraggiare la società civile e i militanti della democrazia russi nel proseguire le loro valorose, eroiche iniziative. Ovviamente questo tipo di iniziativa di condanna e di biasimo ha come limite l'accoglimento da parte della controparte russa. Molto più efficace a mio parere, secondo la mia opinione, sono altri strumenti che l'Unione Europea può, deve e sta utilizzando che non riguardano direttamente la federazione russa ma riguardano i paesi che sono reciprocamente vicini. Sto parlando ovviamente della politica di vicinato e della politica dell'allargamento. Mi spiego. Il fatto che l'Unione Europea possa, è possibile nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per esempio, arrivare a firmare un accordo di associazione con la Repubblica Ucraina, rappresenterebbe, se si verificasse, un segnale di primaria importanza per gli amici della federazione russa, sia per quanto riguarda le autorità che per quanto riguarda i cittadini, perché ovviamente poter constatare che l'Ucraina e i suoi cittadini si avvicina, si incammina nella prospettiva di integrazione europea, sarebbe un segnale di incoraggiamento molto potente sia per la società civile russa nel continuare a rivendicare l'approfondimento dello stato di diritto della democrazia, sia un segnale di allarme molto concreto per i partner della federazione russa, le autorità e il governo della federazione russa che si troverebbero di fronte ad una scelta, dal momento in cui un'ex Repubblica Sovietica si avvia verso l'integrazione perché compie un processo di rafforzamento democratico, mentre i passi avanti fatti nei negoziati con la Russia per un più limitato accordo di cooperazione, un accordo di modernizzazione non riescono ad avanzare a causa di costanti gravissimi ostacoli che si verificano proprio nell'ambito della struttura democratica del comportamento delle autorità russe rispetto alla propria società e ai propri cittadini. Per quanto riguarda la questione molto complicata delle minoranze etniche in Russia, la premessa necessaria è che la federazione russa ha ereditato un contesto estremamente complicato, risultato di secoli di imperialismo russo, un imperialismo la cui base era ovviamente il nazionalismo russo ma soprattutto il riconoscimento dell'autorità della supremazia centrale di Mosca e del regime zarista e poi l'eredità lasciata da 70 anni di regime sovietico che aveva ufficialmente riconosciuto la natura federativa, federale dello stato sovietico ma in realtà le entità etniche e le rivendicazioni e le esigenze delle varie etnie furono semplicemente compresse a unico beneficio e vantaggio della supremazia del partito comunista. Nel momento della dissoluzione dell'unione sovietica e con la nascita della russa e della federazione russa ci fu inizialmente una devoluzione di competenze, un riconoscimento delle autonomie di alcune repubbliche che sono entrate in un legame strutturale con la federazione. Purtroppo però questo riconoscimento così come il riconoscimento dell'esistenza di minoranze etniche non ha mai superato la soglia del riconoscimento effettivo dei diritti dal momento che l'intera struttura, il contesto istituzionale della federazione russa è proprio carente rispetto al riconoscimento dei diritti in generale. Non vi sono gli strumenti né nazionali della federazione russa né sono stati ratificati gli strumenti internazionali che potrebbero permettere un'effettiva salvaguardia dei diritti di queste minoranze. Le minoranze più, sono tantissime, quelle che riscontano i più patenti, i più gravi problemi sono, come sappiamo benissimo, le minoranze del sud del Caucuso, le minoranze dell'Asia centrale e le minoranze del nord e della Siberia. Vi sono altresì dei gravi problemi di convivenza e di razzismo e di discriminazione che subiscono le popolazioni provenienti da ex paesi dell'Unione Sovietica, soprattutto i paesi dell'Asia centrale o di discriminazioni nei confronti di cittadini della federazione russa provenienti dal Caucuso, in particolar modo Cecenio, dal Dagesano, dall'Induscezia e un aggravarsi delle condizioni di queste popolazioni dovuto in parte a una situazione economica che non è brillante e d'altra parte da un incoraggiamento o comunque da un lassismo a combattere i fenomeni xenofobi e di razzismo manifesto da parte delle autorità. della federazione russa. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.